Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 11, rallentamenti tra Prato Ovest e Bivia 11,1 per traffico verso Firenze. Ci spostiamo sulla 12 dove troviamo 3 km di coda per lavori tra Versilia e la diramazione Lucca-Viareggio per chi viaggia verso Rosignano. Qualche problema in Fipili per un incidente si sono creati 5 km di coda tra San Miniato ed Empoli Est nella carreggiata verso Firenze. Uno sguardo alle statali sulla statale 67, Tosco-Romagnola, rallentamenti per senso unico alternato tra Sieci e Rufina. Ci spostiamo sulla statale 71, Umbro-Casentinese-Romagnola dove troviamo tratto chiuso per neve all'altezza di Passo Mandrioli. Prima di salutarci per il traffico navale il traghetto Piombino-Cavo delle 12.20, quest'oggi è cancellato per maltempo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!